Ciao a tutti ragazzi, sono Yume Shan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tra letto in titolo qua sotto ho deciso di parlarvi di un manga. Un manga di genere shoujo che mi ha colpito molto. È una mini serie in 7 volumi e una novità della planet di questo mese, giusto di questo mese, al prezzo di 4,50 euro. Sto parlando di frecce velenose, eccolo qui. Questa è la copertina che la trovo assolutamente stupenda. Questa è rappresentato il protagonista maschile. E questo è il dietro. Perché mi ha colpito molto? Nonostante sia una storia semplice con ambientazione scolastica, mi ha colpito perché unisce il tiro con l'arco, questa bellissima disciplina, con l'amore. Il tutto reso con una relazione veramente perfetta, oltre ai disegni che lo trovate assolutamente fantastici. Eccoli qua. Sono molto particolari i disegni, però i volti sono molto espressivi, soprattutto quando tirano con l'arco, come vedete. L'espressione del protagonista. Diciamo che il tiro con l'arco è una disciplina che Anne, la nostra protagonista, si è dedicata per sei anni ed alla quale è molto affezionata. Purtroppo nel suo ultimo anno alle superiori, non riuscendo a gestire sia il tiro con l'arco che la scuola, la ragazza è costretta a rinunciare a questa disciplina e a passare il titolo di leader al giovane, Yota Mikami. La ragazza però non si aspettava la reazione del giovane protagonista. Lui è un ragazzo che è molto affezionato a lei ed è molto dispiaciuto che lei lasci il club. E cercherà in tutti i modi di dissuaderla a continuare questa sua grande passione. La ragazza lì per lì rimane molto sconvolta, però piano piano, già dal primo volume, comincerà a affezionarsi a questo ragazzo. Dal passato molto misterioso, non capisce il perché di questo motivo e perché lui si sia affezionato molto a lei. E vedremo, penso che questo diciamo è l'inizio, andremo avanti con i volumi, naturalmente capiremo molto di più sul passato di questo protagonista. Lui è un carattere veramente particolare. C'è una che mi ha colpito molto e vi volevo far vedere, soprattutto per farvi vedere i volti espressivi che vi dicevo all'inizio, quel momento in cui ha scolcato la freccia il protagonista maschile. Guardate come sono ben realizzati gli occhi. Poi questo chiaro-oscuro veramente resa la perfezione. Poi lo sfondo qui bianco ci sta veramente bene. Come un momento di attesa, di vedere dove la freccia andrà a posizionarsi, a posarsi. Veramente bellissimo, mi ha colpito veramente tanto. Quindi in conclusione lo straconsiglio a tutti gli amanti del genere shoujo, ma anche a chi volesse provare qualcosa di diverso e fosse anche amante come me del tiro con l'arco. Bene, detto questo spero che questo breve video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha comprato frecce per le nose e cosa ne pensa con un commento qua sotto. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!